Fondata nel 1993 come compagnia statale della Repubblica dell'Azerbaijan, Sokar Energia Svizzera ha sede a Zurigo e impiega circa 800 persone in tutto il territorio elvetico. Il 1 luglio 2012, Sokar rileva dal gruppo ExxonMobil l'intero business di Esso Svizzera e inizia una ristrutturazione di tutte le stazioni di servizio che termina nella prima parte del 2014. Missione dell'azienda è garantire un rifornimento sicuro di prodotti energetici di alta qualità e l'erogazione di servizi accessori che rendano l'esperienza del rifornimento un momento di ristoro, unitamente a una crescita sostenibile attraverso l'eccellenza di ogni aspetto aziendale. La nuova immagine, che supporta i valori di responsabilità, affidabilità e ospitalità, è rappresentata dalla fiamma, simbolo in tutte le culture di energia e vita. Per semplificare le operazioni di rifornimento, Sokar ha creato due carte per i propri clienti, sia business che private. La business card per le aziende permette di avere una visione immediata e unitaria di tutte le transazioni della propria flotta su tutto il territorio nazionale. La carta privata è pensata sia per i viaggiatori che per i consumatori abituali, per viaggiare leggeri e senza contanti, grazie al recapito a domicilio di una fattura mensile. Ma il rifornimento non riguarda solo il vostro mezzo di trasporto. In più di 50 stazioni di rifornimento è infatti presente un negozio Migrolino per una spesa completa, veloce e conveniente. Sono disponibili infatti tutti i prodotti Migros agli stessi prezzi dei magazzini e con la stessa qualità, frutta, verdura, bibite, snack, panetteria ed i prodotti chiosc. E se non è spesa, è una pausa caffè nelle accoglienti e comode aree dedicate. Come nei punti vendita Migros, anche qui sono disponibili i punti Cumulus da utilizzare per la spesa o per il carburante. L'obiettivo di Socar non è solo fornire carburante di qualità, ma rendere l'intera esperienza del viaggio piacevole attraverso l'individuazione e la soddisfazione di tutti i bisogni che lo accompagnano. Socar, sulla strada con voi, per tutto quello che vi serve.